Il libro che ho scritto tratta del 2012, questo anno veramente che tutti stanno aspettando in una maniera incredibile, perché probabilmente sarà un anno di sconquassi, di rivoluzioni, di atterraggi di alieni, qualcuno lo sapete benissimo, di alieno è già arrivato sulla terra, guardatevi bene intorno, adesso non vi faccio dei nomi, però ce n'è 3-4 che anche voi avete messo a fuoco, però quest'anno arrivano gli alieni, c'è la rivoluzione, c'è lo sconquasso, c'è un tramestio incredibile, insomma questo libro parla del 2012, questo 2012 è veramente la fine del mondo, il mio libro però, non il 2012 reale, è un anno di disastri, è un anno di impiastri, è un anno di astri e dipenderà da noi farlo brillare nel modo giusto e perfetto, è vero che questa astrologia è un'astrologia generica, è basata sui segni, sui 12 segni, non è la vera astrologia tecnica, profonda, precisa e direi tra virgolette scientifica, è un'astrologia approssimativa quella basata sui 12 segni, cioè è basata sulla posizione del sole, quindi parleremo soprattutto di ariete, di toro, di gemelli, ma questo non vuol dire che non abbia senso, perché avere il sole nei gemelli, nel cancro, nel capricorno, significa proprio il simbolo, il sole dell'io profondo, direi quasi in termini junghiani del sé e quindi non è un'astrologia così banale. Il libro parlerà quindi del 2012 dal punto di vista di tutti i 12 segni, dal punto di vista psicologico, psicanalitico, sfruguglieremo l'inconscio, parleremo naturalmente d'amore, di seduzioni, parleremo di passioni, di erotismi, parleremo di successi di lavoro, ma parleremo anche di anima e di quella psiche che per i greci era proprio il concetto di mente profonda, mente che i cinesi chiamano shin, la mente corpo, quindi toccheremo anche delle sfumature belle e profonde. Il libro sarà ricco di citazioni, aiosa proprio a volontà, il libro sarà ricco di consigli musicali, jazz, musica classica, musica rock e anche di consigli letterari e filosofici, quindi i libri che dovrete leggere in questo 2012 per non finire in quel vortice di dicembre che gli aztechi avevano previsto come molto sconquassante. Piazziamo gli ultimi due pianeti lenti che sono quelli che poi creano per gli astrologi, segnalano i veri accadimenti proprio profondi, mancava Nettuno che lo piazziamo qua, si trova qua e mancava Plutone che è il pianeta dell'inconscio più profondo, dell'inconscio collettivo, archetipico del T-Rex che c'è noi, quindi seguitelo bene, anche dal punto di vista erotico e questo è molto importante, che si trova qua. E voi di che segno siete? Allora gli Arieti finalmente che sono stati sbattuti come un uovo proprio in padella dall'opposizione di Saturno, gli Arieti si rimettono bene in piedi, tranne devo dire quelli di terza decada e che ancora devono fare un paio di conti e devono risolvere un'equazione difficile, però insomma è una riete in crescita, se siete del toro, Giove nel vostro segno vi manda proprio nella stratosfera anche amorosa e quindi insomma le cose che leggerete, le pelli che sfiorerete si sbricioleranno come polvere d'oro, diceva il toro Erixati. Anche i gemelli viaggiano molto bene perché Giove a metà anno entra nei gemelli e per gli astrologi questo è un segnale di successi, chiarori, estroversioni uscite fuori da quel rimescolamento interiore a volte un po' contorto degli ultimi tempi. I cancrini sono un altro segno, il cancrino sta qua, è un altro segno che si era beccato sulle gengive, la quadratura di Saturno e l'opposizione di Plutone e quindi era un cancrino, se siete del cancro, pallido e maciato, che ogni tanto sveniva per terra, che cercava il bacino della mamma come Proust che era del cancro, che se la mamma non gli dava il bacino scriveva 5.000 pagine, voi cancrini quest'anno di prima e seconda decade proprio siete in una fase di grande risveglio del cuore. La terza decade invece ancora deve stare un po' in galera con una governante dolce e tenera che gli fa la camomilla di tanto in tanto. Leone, ve li dico tutti i vostri segni, leone, prima parte dell'anno balbettante, voi che siete dei re e delle regine, adesso dovete scendere leggermente a terra, depositarvi piano piano, essere umili da humus, terra, cioè con i piedi per terra, perché voi ritornate nella stratosfera che è il vostro luogo luminoso. La terza decade del leone, se siete di terza decade avete Saturno a favore, è il tempo della conquista di posizioni di potere e di autorevolezza, qualcuno anche si sposa con Saturno in trigono, non te che mi stai guardando perché c'hai già tre amanti, te di sicuro non ti vuoi sposare. Ma la Vergine, la Vergine prima parte dell'anno eccellente, devo essere sintetico, scusatemi, seconda parte dell'anno, la seconda decade della Vergine stia attenta a non accumulare altre nevrosi, ne avete 125 e non andate alla 126esima. La bilancia, segno della bellezza di Venere, ricordatevi che Venere esce nuda dall'acqua, non vi serve niente, basta che siate nude, cioè fate cadere tutti i veli, presentatevi per quello che siete, perché avete Giove a favore per tutto l'anno, Saturno nel vostro segno che è come un grande bilanciamento, quindi bilancia io direi molto bene. La prima decade con Urano opposto è in fase rivoluzionaria, non abbiate paura dei cambiamenti perché vi fanno bene anche voi. Lo Scorpione, questo segno demoniaco, terribile, passionale e direi anche guerriero di fondo, dialettico, eracliteo, la verità ama nascondersi, voi siete così. Nella prima parte dell'anno con Giove opposto siete un pochino, non sapete bene se vi trovate nel Purgatorio, nel Paradiso, trovarvi per voi nel Paradiso è una cosa che non vi piace proprio per niente, nella seconda parte dell'anno con Nettuno in trigono, uscite sia dall'inferno che dal Purgatorio che dal Paradiso e entrate direttamente su Sirio B dove c'è la base aliena, i rettiliani che vi assomigliano un po', li guardate negli occhi e loro cadono svenuti perché non reggono il vostro sguardo, molto bene. Il Sagittario che va benissimo anche quando va male perché è l'ottimismo, la fiducia assoluta, il Sagittario come Spinoza, se Dio è ovunque, Dio è anche dentro di me, quindi io sono Dio, proseguite su questa linea, la seconda decade del Sagittario stia un pochino attenta nella seconda parte dell'anno a non voler trionfare e vincere per 7 a 0, si può anche vincere per 1 a 0, li faccio tutti questi segni un po' come dire alla fix e fax, scusatemi la superficialità, però il Capricorno, le prime due decadi del Capricorno sono stati dentro un frullatore per loro che devono tenere tutte per voi Capricorni che dovete tenere tutti in ordine nella pace, nel silenzio, nella contemplazione eterea di un vero per cui vi trasformate in una pietra, in un sasso fermi e qualcuno arriva a baciarvi, a carezzarvi e voi rimanete pietra e sasso, le prime due decadi sono state proprio frullate anche loro da Saturno, da Urano, quindi gli ultimi due anni sono stati duretti, ebbene le prime due decadi hanno finito di pagare quello che in oriente si chiama il loro karma pesante, diventano leggeri, aerei, saggi, luminosi, direi quasi dolci, la terza decada invece deve ancora risolvere un'equazione di terzo grado, di quinto grado segnalata appunto da Saturno che è qua e fa una bellissima, cioè bellissima per modo di dire, quadratura alla Capricorno della terza decada, quindi lavorate duro voi come schiavi che vi piace tanto lavorare duro, poi nel 2013 passerete alla cassa, mi mancano gli ultimi due segni per questa astrologia veramente sciocca di cui mi scuso, l'acquario, l'acquario prima parte dell'anno velocità 60 all'ora, seconda parte dell'anno decollo verticale, verticale ma anche orizzontale in tutti i sensi, ultimo segno al segno magico, dolce, tenero, proprio fuori come un terrazzo, direbbe qualcuno, i pesci, i pesci quest'anno non hanno nessun transito negativo, quindi se voi che mi ascoltate siete dei pesci, bacio soprattutto voi, sulla bocca, sui fianchi, sulle caviglie, perché siete il segno magico del 2012, chi vi tocca, anche se è fatto di carbone, si trasforma in oro. Grazie a tutti.